Continua su cielo il ciclo di documentari La realtà cielo aperto, che regala ai suoi telespettatori altri due documentari imperdibili, Mona Lisa Story e Piccoli Così, in onda in prima visione rispettivamente martedì 19 e 26 settembre, sempre alle ore 23 e 30. In Mona Lisa Story la regista svedese Jessica Nettelblatt ha seguito passo dopo passo a Malmo, in un arco temporale lungo ben otto anni, la lotta contro l'eroina e il percorso riabilitativo di Mona Lisa, una madre di famiglia con un passato da insegnante che a causa della depressione e della tossicodipendenza manda in frantumi la sua vita, perdendo ogni contatto con la realtà. In Piccoli Così invece, in prima tv in chiaro, miglior documentario nell'ultima edizione di Molise Cinema in onda su cielo, il dibattito si sposta sulla dimensione dei nati prematuri, venuti alla luce sotto la soia della 37esima settimana di gravidanza.